Da Conf Commercio e dalla Fondazione 2021 è stato chiesto un incontro con l'autorità portuale, per cosa? Allora, intanto per cercare di avere una visione d'insieme. Per la città bisogna che tutti gli attori in campo si spingano oltre, e quindi proprio per portare risorse economiche al territorio con un gioco di squadra. Presidente, quando parliamo della Fondazione abbiamo già avuto modo di dire che si candida in maniera del tutto gratuita a realizzare dei progetti e a collaborare con le istituzioni. Sì, più che gratuita diciamo con le risorse che già i progetti e i bandi prevedono per questo tipo di attività. Per quello che riguarda invece il rapporto con l'autorità portuale, sotto l'ombrello di Conf Commercio, noi desideriamo essere i facilitatori delle procedure amministrative che porteranno alla esecuzione dei lavori, perché spesso sono proprio quelle procedure la vera difficoltà per arrivare ai risultati. Quando parliamo dell'ex aereasensi parliamo di bonifica. Sì, è necessario. Crotone deve essere bonificata. Se si riesce a partire da quell'angolo lì, significherebbe prolungare le risorse economiche del lungomare di Crotone che fa capo a tutto quello che è il disegno commerciale, turistico, dei servizi che deve essere annesso alla città. Sarà presente anche il sindaco e qualche altra istituzione nazionale per questo incontro? Il sindaco è il presidente dell'autorità portuale e poi ci saranno i collaboratori della Fondazione 2021 che saranno direttamente responsabili di questa attività di facilitatore che noi vogliamo porre in essere. Ora però l'appuntamento più importante, come è stato detto, è la bonifica dell'area sensi. Va chiarito che la responsabilità è del sindaco, che ha a lui il potere e il dovere di convocare la conferenza dei servizi. Un'ultima domanda ed è questa. In realtà le nostre istituzioni nazionali, mi riferisco ai deputati, non sono presenti a questi incontri? Sì, verrà anche l'onorevole Barbuto che si è già prodigata tanto per cercare di creare sistema sull'autorità portuale per creare quel colloquio necessario tra le parti. A volte basta anche poco. L'importante è avere l'intenzione di portare le risorse alla città di Crotone attraverso un disegno di insieme e devono essere poi portati avanti tutti i lavori. È necessario che la città riparta. Uniti si vince. Uniti si vince. Confermo. Uniti si vince.